dicembre è quel bellissimo momento dell'anno dove io abbandono qualsiasi remora morale e vi caccio giù per la gola 50 video di one piece in 30 giorni di cui chiaramente 49 sono un'immondizia solo perché su youtube si guadagna meravigliosamente e io lo sapete sono il più schifoso dei money grab e quindi che facciamo pecuniano no let viate pazienza e quindi se volete al massimo questo mese lo potete schippare così come così come perché dicembre è un mese meraviglioso perché puntualmente escono i dati oricon delle vendite annuali dei manga ed è quel momento dell'anno in cui gli hater di one piece si scatenano si scatenano perché vedono che one piece non vende più come una volta si scatenano perché vedono che one piece ha venduto solo 7 milioni di copie e quindi dicono one piece è calato one piece non se lo compra più nessuno one piece anche i giapponesi si sono scocciati e sapete vi dico avete ragione basta basta con questo fumetto di merda di cui la gente parla unicamente a sproposito ma avranno ragione giappone avranno ragione giapponesi ad essersi scocciati di leggere questa roba orribile dopo 24 anni di avventure tutte uguali inutili non si arriva mai da nessuna parte o da puntualmente settimana dopo settimana mette segreti su misteri su segreti misteriosi e non si vede mai una risoluzione combattimenti che non portano mai da nessuna parte il protagonista principale che ancora deve affrontare il cattivo di turno è sempre la stessa cosa ma come gli viene in mente a questi giapponesi di leggere questa roba fanno bene fanno bene arrivati al 2021 quasi 2022 a snobbare one piece anzi io penso io penso che tutti i giapponesi quanti saranno 120 130 milioni non lo so in casa loro nel guardarsi dietro le loro librerie si saranno anche ampiamente scocciati si saranno ampiamente pentiti di aver comprato tutti 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 i volumi di one piece e immagino che comprino questa immondizia questa immondizia di one piece unicamente per completare la collezione immaginatevi se non lo facessero immaginatevi se i giapponesi non comprassero i volumi di one piece sarebbe bello per tutti perché finalmente finalmente one piece scomparirebbe scomparirebbe da questa classifica che vede proprio vede proprio solamente quei due tre volumi di one piece che con quei due tre volumi di one piece proietta questo fumetto melmoso comunque al sesto posto mannaggia la morte è ancora troppo in alto ma come si permettono questi giapponesi come si permettono questi giapponesi di comprare ancora il nuovo volume di one piece quando esce quella volta ogni 4 5 mesi e farlo arrivare comunque al sesto posto non dovrebbero farlo oramai lo fanno per pietà i giapponesi lo fanno per pietà perché dicono lo seguiamo da 24 anni almeno lo sfizio di vedere non tanto come va a finire ma di avere tutta la collezione tutta la collezione ce lo dobbiamo togliere e quindi quando esce una tantum quel numero noi ce lo compriamo perché poi pare brutto no anche voi anche voi lo fate anche voi io lo so che comprate quell'immondizia di one piece perché ce l'avevi avete anche voi tutti 98 99 volumi quanti ne sono e pare brutto giustamente avete investito tanti dei vostri soldi che fa lo lasci tanto sta quasi per finire il grosso è fatto come disse mia mamma quando mi partorì e basta basta questo è e poi in realtà è molto interessante vedere la classifica oricon annuale perché rispecchia proprio quelli che sono i segnali provenienti dal paese del sollevante fumettisticamente parlando e soprattutto conferma sempre una cosa conferma che il buon Tezuka aveva ragione Tezuka diceva abbiamo detto millemila volte ma continuiamo a ripeterlo che la vera killer app del mondo del fumetto sarebbero stati i cartoni animati e questa classifica rispecchia proprio questo laddove il cartone animato entra prepotentemente nelle case degli spettatori anche perché laddove il cartone animato entra finalmente le persone conoscono un prodotto che non conoscevano e quindi poi vanno a comprarsi il fumetto anche perché ecco apro adesso la parentesi che se l'avessi aperta prima sarebbe stata talmente lunga che ci saremmo dimenticati la principale in realtà la fruizione di un cartone animato quindi l'atto di accendere e vedersi davvero questa cosa che ti arriva a casa è un qualcosa di passivo tu non devi fare proprio una azione quindi non è che ti devi vestire devi uscire devi andare in libreria e o in fumetteria per comprare attivamente il volume che poi attivamente devi leggere bensì essendo un prodotto audiovisivo l'anime è un qualcosa che tu fruisci passivamente e quindi ti arriva o anche se tu non gli stai prestando attenzione e io questo lo vedo spesso quando la mia signora guarda i cartoni animati e io sto lì stravaccato sul divano e sto leggendo e un occhio ce lo butti sempre e quindi la curiosità ti vede che cos'è questa roba? è Jujutsu Kaisen che io ho ecco sbirciato mentre la mia signora lo guardava ed è veramente molto bello come cartone animato disegnato benissimo i combattimenti sono veramente strepitosi dal punto di vista tecnico è veramente molto 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 ben congegnato e quindi poi ti viene la curiosità di dire adesso vado a vedere com'è il manga tutti se lo recuperano in Giappone tanto costano poco stiamo sempre a fare lo stesso discorso se tu vai in Giappone il manga ha ancora un prezzo estremamente nazional popolare con 3 euro circa 3 euro e mezzo ti porti a casa il volume e quindi poi fa veramente presto a recuperare tutti i volumi che ti mancano soprattutto perché lì a differenza nostra tutti quelli che sono gli arretrati sono sempre 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 disponibilissimi quindi non c'è una mancanza di il numero X o il numero Y quindi se tu te lo vuoi acquistare anche in blocco come poi in realtà fanno i giapponesi anzi non so se lo sapete in Giappone in realtà i manga soprattutto quelli che poi vendono di più te li vendono già in blocco in celofanati tu basta che vai in libreria e dici salve mi serve Jujutsu Kaisen che numero? no tutti il commesso va un attimo dietro della botteguccia arriva e poh te lo dà ti dà proprio tutto tutta la serie in celofanata e in genere costa pure di meno in genere costa pure di meno oppure a volte a volte se magari la serie sta andando benissimo ed ecco comincia ad esserci magari qualche penuria di numeri proprio perché la serie ha avuto un boom eccezionale aggiungono un piccolo sovrapprezzo proprio perché non puoi aspettare che venga vengono rimpinguate le scorte questo è molto interessante così come è ancora estremamente interessante vedere che Schifo Slayer continua a macinare un successo incredibile dettato sempre anche qui dal cartone animato dettato da quella meraviglia che è stato il film Mugen Train e che criminalmente criminalmente quelli di Ufotable hanno riproposto in maniera spezzettata come nuova stagione quindi la seconda stagione di Demon Slayer è metà film e metà serie nuova ma è talmente bello anche io guardate anch'io me lo sono riguardato mi sono riguardato le mazzate di Mugen Train perché so belle e che cosa ci vuoi fare quindi non deve stupire che questi due stiano lì così come non stupisce questo fenomeno di Tokyo Revengers anche rispetto a Jujutsu Kaisen che quantomeno ancora all'inizio o Demon Slayer che comunque ha avuto ha avuto davvero un qualcosa di simile Tokyo Revengers è esploso solo adesso che sta andando verso il finale perché? perché prima non c'era cartone animato e anche in Giappone immagino faticassero a sapere cosa fosse questo manga cosa fosse questo fumetto arriva il cartone animato diventa la killer app esplode tutti tant'è vero ecco con Tokyo Revengers il boom è stato forse ancora più inaspettato e ancora più subitaneo tant'è vero che ecco con Tokyo Revengers lo dicevano proprio i media nazionali giapponesi i numeri sono scomparsi arrivato a un certo punto ovvero c'è stato bisogno c'è stato bisogno che la casa editrice ne stampasse di più perché le scorte e gli approvvigionamenti erano finiti e anche con i nuovi numeri spesso e volentieri la casa editrice ha dovuto ovviare a delle ristampe straordinarie perché non c'era neanche il tempo di metterli sui banconi delle librerie che tempo 5 minuti si polverizzava tutto l'attacco dei giganti chiaramente si è concluso quest'anno quindi è anche normale che molte persone abbiano recuperato qualcosa del passato ma Euro Accademia ormai è diventato una certezza ecco Chainsaw Man Chainsaw Man è forse secondo me la vera grande sorpresa di questa classifica vera grande sorpresa anche Spyper Femini anche Spyper Femini ma Chainsaw Man è proprio la vera grande classifica perché si sta imponendo davvero come un cult è già un cult Chainsaw Man è già diventato un cult per i lettori e sarà molto interessante vedere quale sarà l'impatto del cartone animato che dovrebbe uscire l'anno prossimo se non sbaglio su sulle vendite sulle vendite quindi magari l'anno prossimo dicembre dell'anno prossimo dove ci ritroveremo qui a lamentarci di One Piece che non vende più vedremo da queste 5 milioni e 200 mila copie quanto avrà impattato il cartone animato e se avrà proiettato Chainsaw Man nei primi 3 diciamo che se già adesso sta 5 milioni di copie con il cartone animato secondo me una ventina di milioni di copie in più ci arriva quindi l'anno prossimo lo vedremo tra i primi 3 facciamo questa scommessa Spyper Femi ecco Kingdom Kingdom è veramente forse la cosa che apre proprio di più il cuore nonostante sia un fumetto non voglio dire di nicchia anche se poi in realtà lo è in Giappone è un qualcosa che ormai da anni va benissimo è grande pilastro nel mondo dei seinen in Giappone contemporaneo e se noi pensiamo che quelli di Shueisha come ci hanno detto quando siamo andati là lo hanno spinto perché all'inizio nessuno se lo inculava ti rendi conto ti rendi conto del grandissimo risultato che ha ottenuto ti rendi conto del fatto che un fumetto storico così lungo che è molto bello stia lì in cima nonostante tutto in top 10 fa aprire il cuore e ti fa capire davvero che comunque quelli di Shueisha che dominano questa classifica dominano letteralmente questa classifica Giuzzo Kasin di Shueisha Chimezzo Noyab di Shueisha Mayro Academy di Shueisha One Piece di Shueisha C'è insomma di Shueisha Spyper Family di Shueisha Kingdom di Shueisha IQ di Shueisha cioè ci manca solo Attack on Titan che è Kodansha e ci manca Tokyo Revengers poi 8 su 10 dei 10 manga più venduti del Giappone nel 2021 sono di Shueisha no? povero colosso del manga mainstream non è una parolaccia e va bene così fa davvero pensare anche di come sta messo il mondo dei manga e del perché comunque quando parliamo di Shueisha sempre grazie Shueisha possiamo davvero dire che il più grande editore dei fumetti del mondo se teniamo conto perché le statistiche non mentono che da solo il 46% del mercato del fumetto mondiale è composto solo dal mercato dei manga poi c'è tutto il resto quindi quasi la metà del mercato mondiale del fumetto è questa roba qui e le cifre non mentono cioè da solo parliamo di 30 60 80 85 90 solo queste sono 130 milioni di copie su per giù così a occhio in un anno 130 milioni di volumi vuol dire che davvero un giapponese cioè tutti i giapponesi almeno un giapponese nel corso dell'anno si è comprato un fumetto che è una roba pazzesca se ci pensate come se dicessimo tutti gli italiani almeno hanno comprato un libro o un fumetto follia totale bellissimo ma comunque solo per dirvi ancora una volta è One Piece anche quest'anno ha fatto schifo anche quest'anno naturalmente con quei due tre volumi all'attivo è veramente risultato inqualificabile come si è permesso quest'anno Echirod di raggiungere il sesto posto e non ci doveva neanche entrare in top ten con questa schifezza basta basta con questo One Piece non ce la facciamo più meno male che sta scivolando lentamente lungo l'oblio della memoria speriamo collettiva che nessuno l'anno prossimo lo compri così non ne parliamo più e io cambio mestiere ad ogni modo fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutta questa manfrina lasciandomi il sempliterno commentino qui sotto su youtube sulla mia fanpage facebook sommobuda oppure su instagram sommobuda se non siete su instagram siete delle persone non male non malissimo non peggio non peggissimo noi ci vediamo questa sera alle 21 su twitch chi non viene questa sera alle 21 su twitch è una persona non lo dico che cos'è stasera ci sono i 100 manga da leggere prima di morire potete mancare stasera se mancate scrivete non vengo su twitch che è più bello no comunque se siete arrivati alla fine di questo video qui sotto scrivetemi basta con one piece virgola questo fumetto è inqualificabile ecco a domani con un nuovo video su one piece è dicembre money grabber money grabber money grabber e con un nuovo video Grazie a tutti